ciao a tutti sono mazzetess oggi raggiungeremo l'isola che non c'è perché l'abbiamo trovata eccola la chissà se troveremo capitano uncino tu cosa ne pensi sarà zombie io penso che sto morendo di fame ok uno guarda un po una volta che piace la prima fondation automaticamente ti fa posizionare la successiva dai prova a bastiazzarne una è in sequenza piazza 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 io ma aspetta tra l'altro non sappiamo se ci basteranno probabilmente non ci basteranno però noi ci proviamo marco 88 ha ha nerdato un po tagliando gli alberi io sono andato un po cercare risorse in città ma non c'era assolutamente niente tra l'altro il sole sta sorgendo e l'isola sembra sempre più vicina sì c'è un elicottero tra l'altro sull'isola vai io ho già visto quest'isola però in qualche video sai pezzo io vai vai ma ma forse no io li ho finiti e quanti ne hai non lo so ancora questo lo posso piazzare finiti ma ci manca pochissimo già però stiamo morendo di fame io al 19 per cento allora sei cosa io vado a cercare delle risorse tu taglia un po di legna così facciamo anche dei video un po diversi esatto abbiamo due prospettive questa volta precisamente diverse tu vai prenditi la macchina si prendo anche la mappa ovunque se vedi guarda che figata il ponte di profilo vedi proprio il legno che fa tutto il fondale del mare guarda da qua è vero cioè wow dove mi conviene andare però trovare del cibo alberton l'abbiamo appena saccheggiata l'altra anche devo tornare a charlotte town forse sai tanto ce n'è di benzina se vuoi una tannica aspetta fermo 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 no ce l'ho una tannica ok facciamo così io parmo e piazzo in modo tale da avere l'inventario sempre pieno così dopo magari riusciamo direttamente andarci in macchina ok perfetto allora ci rivediamo tra un attimo io vado e sto andando in città sono passato dalla fattoria strano non ci sia nessuno ci provo ok sono arrivato in città poi dovrebbe esserci qualcosa credo non tanto però l'abbiamo sacchettato da un po di tempo quindi sono al 90 per cento di fama ecco ma sei ho deciso di darti il nome kenny dato che mori ogni episodio kenny perché kenny chi è kenny mccorni quello di south park personaggio ah e non conosco di south park io non conosco niente praticamente è uno personaggio che la sua abitudine è quella di morire ad ogni episodio di south park quasi almeno allora io solo kenny infatti la frase del cartone tra virgolette hanno ammazzato kenny brutti bastardi ah o mio dio hanno ammazzato kenny una sega non me ne faccio un kaiser no ho trovato un sacco a pelo fortunato possiamo poi piazzarlo la visto che adesso stiamo iniziando a costruire la base vuol dire proprio così morirai e ritornerei in quel punto sì appunto così non sarò più un kenny sfortunato posso utilizzarlo io il primo sacco a pelo vero dato che sono quello che moro l'hai trovato tu lo devi utilizzare tu cosa mi chiedi a fare è chiaro che ho 92 per cento di fame fa che ci sia qualcosa da mangiare no orange juice canne di tuna sì dammi qua no no questo equip 93 ok stabilizzato va un po meglio 62 ho trovato una barretta ma perché è solo da bere io ho non c'ho sete no mi hai fatto ricordare che io ho sete dopo riempirò una borraccia con l'acqua di mare purissima purissima altissima purissima e purissima perché noi non facciamo pubblicità no fin dato che non ci pagano quindi le vissima dovete darci tipo 50 euro scusa dato che siamo su un untarned possiamo dire altissima purissima zombissima zombissima però non credo che ispiri a comprarla sai non lo so io non comprerei un'acqua dal cenere beh comprala se no ti mangio il cervello ok ecco lo zombie piccoli zombie crescono ho trovato un po di cima ma sono comunque al 50 per cento vedo se più che altro se trovo un'accetta un'ascia un'ascia e raddoppia ho trovato tre torce ma neanche un'accia tra l'altro tre torce tutte là c'è tre torce tutte nello stesso posto ciao madre mia sto registrando mi sa che per quando arriverai tu ci sarà un bel ponte perfetto io ho trovato della medicina qualcosa è uno splint non ne ho la più palle idea tra un attimo madre mia allora vediamo se trovo del cibo qua delle patatine no non ho più spazio morirò io uso le bende perché io posso quasi finito il ponte per una non sono riuscito a raggiungere la riva apple juice scannet cola ma non me ne faccio niente del del da bersi comunque avvo ragione io ne avevo più o meno 20 24 no 27 sarà come 27 prima ne abbiamo pensate 14 tu ne hai messo 8 io ne ho messo 6 oh siege armor questo si che serve ma è di troppo questo wooden shield chi se hai capito tu ne hai messo 8 io ne ho messo 6 io ne ho rimesse 8 adesso 8 16 più 6 22 siccome che non sono ancora arrivato più o meno 24 ho trovato un'altra fiamma ossidrica tannica di benzina ne abbiamo però guarda se ho dello spazio nell'inventario me ne prendo un altro po' perché tanto se andiamo ad abitare su un'isola non fanno mai male no si si prendi scusa mi sto nardando la legna bravo bravo e devo ricordarmi di bere perché sono al 60% vabbè che ho la borraccia adesso vado ma no credo ce ne fossero un'infinità invece non ce n'era cioè ce n'era una vabbè riempio quell'una che ho trovato dove fai? ah è là eeeh quell'una che ho trovato è questa questa è piena si e la 4 è piena ok ciao ciao pompiere quella macchina è in fiamme oh l'ambulanza quanta benzina ha l'ambulanza si io mi riparo l'ambulanza e vengo con l'ambulanza scusa scusa se è poco è la cosa più lenta che esiste in questo gioco no non importa vengo a curarti servirebbe un po' di cibo però va bene eh ne ho trovato poco già solo per me tu hai quasi finito? sono il 3 no finito praticamente ma no guarda che comunque va ai 54 l'ambulanza quindi non è uno schifo vuoi che ti aspetti per esplorare l'isola? tanto sto arrivando con la macchina sull'isola guarda con l'ambulanza mi raccomando non cascare l'acqua che probabilmente crepa la macchina se e con te anche potresti morire dovremmo fare l'arco 2 quasi quasi qua non lo farò si più o meno è largo 2 o 3 ah ma non è ancora finito il ponte è quasi finito tu vieni mancano finito ok appena in tempo no io affogo ok no mi son salvato hai visto? foto finish al pelo proprio ma no guarda che non è vero che non spawnano guarda qua quanta gente che c'è dove? sto morendo non me lo invita più te sono quasi morto per colpa tua guarda un single player non c'era un caspita di nessuno vabbè senti sappiamo dove spawnano non è un problema non c'è un caspita di elicottero andiamo a vedere cosa c'è in quel caspita di elicottero figato però mi verrebbe voglia di sotterrare l'elicottero e scattarmela via non c'è un casino di niente tra l'altro sole tu sai cosa è stupide? questo bastoncino che sprecherò ma abbia fatto tutto questo lavoro per niente no e cosa ci facciamo qua? siamo pure bloccati in mezzo a un posto dove spawnano tipo 100 zombie allora spawnano sempre nell'area dell'elicottero giusto? si ma non c'è tanto spazio qua si qua eh ok ma ci vengono subito addosso non abbiamo neanche spazio per fare le fondazioni qua tranquillo che abbiamo lo spazio aspetta torniamo indietro con l'ambulanza è grande comunque l'isola perchè se vedi per tornare indietro dobbiamo usare le macchine noi ci invitiamo una vita vai torna indietro ma perchè il ponte è lungo vai verso il ponte ecco qua più o meno dove ci sono gli zombie costruirei allora cosa ci serve per costruire allora? cosa ci serve? cosa ci serve per cosa? per costruire una casa con la roccia? ah e le fondamenta devono essere in legno il resto niente roccia roccia rocciante proprio allora iniziamo a cercarci un po' di roccia va bene non mi piace il mio posto non ti piace? ma è pieno di zombie va bene fammi guidare andiamo dall'altra parte ce n'è un'altra isola scusa le altre isole non ci sono isole più grandi più interessanti tipo proviamo a guardare scusa tipo Holman Island quella dall'altra parte di qua scusa andiamoci a nuoto eh monta intanto ah dove sei? sull'ambulanza eh si vabbè aspettami dove vai? fermati si si ci sono? allora quella è la isola vedi la Holman e qua? quella cosa la si dritto 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 oltrepassa la strada ah ecco di qua di qua ecco fermati sai che forse mi sono sbagliato isola? fermo fermo e perchè mi? no 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 oh io provo provo ad andare di là a nuoto si forse forse ho sbagliato proprio isola io che palle devo rifare il ponte vabbè si io ho il mazzello per distruggere quello ma non ci conviene perchè non lo ridà comunque senti comunque possiamo iniziare a costruire la casetta lì e dopo ci facciamo il ponte ci facciamo il ponte nel secondo momento sì intanto questo episodio è quasi finito possiamo mettere la prima pietra le prime foundation dovrebbe dovrebbe averne c'è una wooden foundation ancora dovrebbe averne una sì vedo se non spawna niente qua però ma infatti io mi ricordavo di aver visto un'isola senza elicottero invece di ciare un elicottero forse ho sbagliato io guardando allora io sto attraversando l'isola qua per ora non vedo niente sono dei cespugli con le bacche rosa quelle allucinogene una ne ho due ne ho due wooden foundation allora puoi venire in qua credo che non ci sia niente effettivamente perché ed è anche enorme cioè no come la ah no aspetta 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 c'è un edificio qua aspetta che vado a vedere che cos'è che figata se c'è un edificio ci ferghiamo quello basta che non ci sia uno spawn in quell'edificio esatto altrimenti ci conviene starne un po' lontani perché comunque è un po' distante dal resto eh è molto dissestata però come isola eh ma non ci interessa si c'è una grande base qua eh è strano io non l'ho mai vista aspetta che ci vado eh magari è la terza isola ancora allora quella che hai visto eh no no praticamente una di queste isole qua avevano costruito una mega base qua c'è un un enorme posto vedo già degli zombie qua però è già più interessante che non altri posti eh e cosa possiamo fare? ci sono dei container qua eh allora ho trovato due zombie uno c'è là sopra proprietà privata c'è della benzina ci può stare eh ci può stare un sacco c'è un coso con la benzina qua all'interno qua ci sono altri zombie sembra tipo una cosa no non è militare però quasi gli hai uccisi tu questi zombie? si quelli sulla riva del mare si ma non ce ne sono tanti di zombie qua c'è un pozzo scendo giù nel pozzo vedo cosa c'è un sacco di zombie un sacco di zombie ci sono delle delle stanze private qua sotto e qua gli zombie che mi stanno inseguendo ce l'hanno anche con me vedo se riesco a curarmi un attimo antibiotici comunque questa vase mi piace si anche a me peccato che sia il posto sbagliato poi ci sono anche delle roba di lavanderia diciamo un mitragliatore uzzi uzzi ci sono delle robe militari anche secondo me è un posto molto interessante delle pistole e mi sono rotto le ossa bravo ma ci deve essere un modo per non farli spawnare nella tua casa e beh ma noi possiamo costruirla sull'altra sponda di questo posto eh qua abbiamo anche la benzina quando abbiamo bisogno della benzina possiamo venire qua ok ci sta un sacco c'è l'acqua del mare facciamo le coltivazioni diciamo così concludiamo l'episodio mettendo le prime fondazioni si aspetta che guardo di qua da questo lato che cosa c'è visto che c'è uno zombie qua in alto sulla collina sul crinale c'è della pietra su quest'isola non ho guardato non credo però io le ho assalutte quindi ci sono degli zombie anche la dietro ma si si invece che c'è Wara qua c'è c'è non so se ho un piccone adesso nell'inventario ce l'ho io quella è ben pietra no? si è pietra ecco appunto quindi mi sembra un'isola perfetta questa un'isola felice abbiamo la benzina lo spazio per le coltivazioni non ci sono troppo sporo io la rompo ne prendiamo giusto uno per mostrare ecco fatto rotta la pietra? si ma tra l'altro quella non si rigenera vero? si si rigenera invece si? dove sei? ah la scuola pietra eh dove c'è la pietra ok sei presa? arrivo quante te ne servono per costruire le pareti? eh non me lo ricordo assolutamente secondo me ci conviene farlo nel prossimo episodio quello delle pareti poniamo le fondamenta anche perchè è passato abbastanza tempo e sto morendo di fame anch'io quindi andiamo ok dove? eh all'inizio dell'isola io direi da dove siamo arrivati noi dalla parte opposta della base così non abbiamo spawn vicino e abbiamo spazio per le coltivazioni ok arrivo subito perchè sennò quegli zombie appena spawnano vengono attirati dalla nostra base quindi è un casino oh sto morendo sto morendo sto morendo perché? passami vitamine eh pain killer sono qua però aspetta che devo 52 secondi 50 49 48 te li droppo qua te li ho droppati ah salvo? no dammi delle vitamine ce l'hai? eh no solo più delle bende ti ho dato tutto quello che avevo di medico ah no si ce l'ho ecco qua vai 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 oh oh ma a pelo a pelo allora mi crafto mille bende perchè sono al 12% di vita dai così chiudiamo perchè è già tardi sì io posso intitolare anche questo episodio a un passo dalla morte quasi quasi sì perchè veramente 12% di vita dai vieni qua che poniamole fondamente arrivo non le vedevo perchè mi sembravano la borroccia sì ma avevo mangiato delle bacche rosse e mi ha dato ma sei furbo non pensavo che le bacche rosse facessero questo effetto di solito sono quelle buone dai vieni qua eh no ma il colore è sempre uguale quelle buone sono sempre le stesse dai le poniamo qua sto arrivando così chiudiamo scusate sei un po' di fretta ma ho un sacco di cose da fare oggi ok le poso proprio qua? sì uno non te lo fa piazzare? un attimo qua questa è la casetta posso piazzare il mio sacco a pelo a questo punto? sì e lo metto posso metterlo tipo qua? mettilo dove vuoi eh ma poi per vedere in base a dove si espande ci sono dei posti dove non possiamo mettere altre fondamenta? no possiamo metterlo dappertutto? sì anche dove ci sono le bacche? penso proprio di sì sì vabbè io comunque lo metto qua dove avevi i piedi te claim posso claimarlo anch'io o no? adesso credo di no no adesso no quindi devo se facciamo un claim puoi claimarlo tu credo no adesso non claimarlo no no claimalo tu guarda adesso guarda solo se puoi claimarlo o non claimarlo sì ok adesso l'ho claimato io è personale il sacco a pelo vabbè esatto sì sì vabbè perfetto allora possiamo chiudere l'episodio mettete un mi piace iscrivetevi ai nostri canali se vi piacciono i nostri video naturalmente esatto io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao